In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo e gli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse, voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di abilità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno, date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro. Ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore. Siero dato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, martedì 11 di ottobre 2022. Il Signore oggi ci chiede, ci impone di guardare più il nostro aspetto interiore rispetto a quello che è quello esteriore. C'è un problema di base che lui appunto nella vicenda dell'apparizione che lui fece a Santa Brigida spiega che il demonio controlla tre punti. Il primo è l'organo genitale, il secondo la lingua, il terzo il cuore. Per cuore si intende un po' il centro della nostra istintività, il centro del nostro essere meno razionale, ecco se così si può definire. E quindi quando tu hai il nemico che controlla tre parti della tua persona è naturale che non è semplice. Non è semplice anche perché poi la conversione porta delle prove. Quindi molte volte noi se dovessimo aderire al Vangelo vuoi un po' per le nostre ferite, vuoi un po' perché il demonio ti tenta, vuoi anche per l'incapacità perché molte volte non è semplice cambiare la propria natura, più delle volte probabilmente faremo delle azioni che non risulteranno veramente essere nella nostra natura, ma essere delle azioni fatte esclusivamente solo in maniera per poter, tra virgolette, compiacere il Signore. Quindi magari, come dice lui, date tutto in elemosina. Magari io vedo fuori dal supermercato una persona che mi chiede di dargli qualche soldo oppure magari non me lo chiede. Allora io prendo, gli do una moneta che può essere uno, due euro, cinque euro, non lo so. Ma quell'azione che farò la farò perché mi sento di aiutarlo oppure perché il Signore mi ha detto questo? Ecco, questo è un po' il dilemma, no? Quindi quando noi veramente siamo capaci di fare un'azione oppure al Signore gli basta che fingiamo, che facciamo le cose così tanto perché sta scritto nel Vangelo, perché dobbiamo essere buoni cattolici. Ecco, è un po' questa la grande differenza tra il dire io sono cattolico e il fare il cattolico perché poi molte volte noi dobbiamo anche un po' per quello che dicono gli altri. Ah ma no, insomma, ma se io non faccio così cosa pensano gli altri? Se io non mi comporto così? Se io non do l'obolo? Se io non aiuto? Se io non faccio? Ecco, poi ci troviamo davanti a queste situazioni in cui molte volte noi agiamo non tanto anche per spirito evangelico ma anche perché chissà cosa pensano gli altri, un po' come era quella canzone Quelli che ben pensano dal rapper, che dice appunto è alle mani alla domenica giunte, chissà cosa dice. Ecco, quindi di conseguenza noi ci ritroviamo in un dilemma, che è un dilemma esistenziale, quello del essere o non essere, questo è il problema. E quindi di conseguenza non è solamente Shakespeare che lo dice, è proprio la natura umana, dobbiamo comportarci perché siamo o perché vorremmo essere, quindi di conseguenza anche lì senza la grazia uno non cambia. È facile dire io ho letto il Vangelo e comunque in ogni caso il Signore ci impone di dare l'elemosa, poi guarda caso, trovami un cattolico che apri il portafoglio a Fisarmonica, difficilmente lo trovi. Questo per farci capire che il Signore è anche, tra virgolette, un po' ironico perché mette il dito nella piaga e dice vuoi essere un cattolico? Eh, mo' apri i soldi, apri il portafoglio e caccia i soldi, cosa che alla fin fine, almeno per quanto mi riguarda le mie esperienze, non ho trovato mai nessuno che mi avesse aiutato. Quindi tranne forse una persona nel presente, quindi di conseguenza questo per farci capire che siamo tutti cattolici finché non ci toccano il portafoglio. Poi per il resto, insomma, ci sono anche casi in cui ci sono persone che donano e tutto, ma molte volte donano il superfluo, quindi di conseguenza anche lì dobbiamo capire che le conversioni, oppure se dovessimo leggere il Vangelo, ma dovessimo leggerlo con gli occhi veramente del fedele, possiamo solamente capire che se non vi è una grazia, una grazia santificante, qui non si cambia e la maggior parte non cambierà. Però dobbiamo essere ipocriti, dobbiamo fare le cose perché ce le impone l'etichetta, perché siamo cattolici, perché siamo cristiani. Ecco, io penso che forse sarebbe il caso di riscoprire quel momento evangelico in cui il Signore con la parabola dice c'era quello che andava avanti in chiesa e diceva grazie Signore perché mi hai fatto così, perché digiuno, perché prego, perché sono bravo e tutto. Invece quell'altro che in fondo dice Signore accettami come sono, ecco io penso che sia così, piuttosto che il Signore ci accetti come stiamo pessimi persone rispetto magari a persone false che forse in primis prendono in giro Lui e neanche noi stessi. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie a Dio. Per il Santo Dimenticato di oggi la scelta ricade sul Beato Simone in Napoli da Cala Scibetta, un frate minore osservante. Siamo a Palermo nel 1500 e qui c'è Fra Simone che è una persona particolare, lui non solo sente la vocazione religiosa, ma vuole diventare frate minore osservante, molto, molto aderente a quello che era la volontà di San Francesco. È un fedele imitatore del poverello di Assisi e lui osservava veramente con gioia la regola francescana e comunque fu anche, ha partecipato al capitolo provinciale di Sicilia del suo ordine religioso e ha dato anche la possibilità di cambiare la regola che si teneva lì per fare veramente un'osservanza ancora più stretta e mise in atto la sua riforma appunto conducendo insieme agli altri frati una vita più fedele ai valori del carisma francescano. Era una persona incredibile, il frate pregava in continuazione, addirittura lui aveva questa abitudine di pregare vicino a un albero con tre rami perché i tre rami secondo lui simboleggiavano la Santissima Trinità. Era una persona amatissima ma forse anche perché lui conduceva una vita talmente santa da avere la possibilità di fare tanti miracoli e la gente veramente non non lesinò di poter chiedere a lui di poter intervenire su varie situazioni che potevano essere personali o potevano essere a carattere generale quando magari non pioveva o c'erano delle calamità in cui veramente tutto il paese o le zone attive potevano avere dei problemi. e quindi quello che ci porta a questo santo sono gli insegnamenti che ha dato, ovvero quella della necessità di accogliere la rivelazione di Gesù ma con cuore semplice, un po' come lo accoglieva San Francesco, l'importanza della preghiera e soprattutto del silenzio e poi il valore della penitenza. Ecco queste tre cose che sono fondamentali per i cristiani di tutti i tempi, oggi si sono un po' anacquate. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è chiedere al Beato Simone che veramente ci possa far rivalutare questi tre passaggi indispensabili della nostra vita, magari anche fare dei miracoli, però soprattutto essere noi miracolati dal Signore per poter veramente accedere con la salvezza in grande come ha avuto accesso San Francesco d'Assisi e anche sicuramente il Beato Simone Napoli. Grazie a tutti.